Vive in Brasile a San Paolo e compirà un anno tra dieci giorni la prima bambina nata da un utero trapiantato da una donatrice morta. La sua storia, raccontata per la prima volta da un'importante rivista scientifica, ha origine in un laboratorio. Sua madre infatti è nata 32 anni fa senza utero, una condizione molto rara che le impediva di poter avere un figlio, perlomeno in modo naturale. La donna, nel corso degli anni, ha maturato la decisione di sottoporsi a un delicato trapianto di utero, utero donato da una madre di 45 anni morta di ictus. L'operazione, molto complessa e rischiosa, nei precedenti dieci tentativi su diverse pazienti è sempre fallita, causando dieci aborti. Nel 2016 una equip di medici brasiliani di San Paolo compie l'intervento e dopo 37 giorni la donna ha le prime mestruazioni. Passano sette mesi e i medici decidono di trasferire nel suo utero uno embrione crioconservato precedentemente fecondato in vitro, embrione frutto degli ovociti della donna e degli spermatozoi del marito. A quel punto la gravidanza è proseguita in modo regolare e la piccola è nata con parto cesareo alla 35esima settimana. Durante l'intervento alla donna è stato rimosso l'utero trapiantato. Siamo di fronte a una nuova strada che permetterà di contrastare l'infertilità uterina oppure a una manipolazione estrema della vita umana. Difficile dirlo. Abbiamo aiutato una persona ad avere un figlio oppure per avere un figlio abbiamo giocato con il ego della vita?